Beatrice Luzzi contro Boccia, pessimo esempio. Poi parla di Signorini. Mi tratta male. Ecco cosa dice di me. L'opinionista del Grande Fratello ha rilasciato un'intervista al magazine diretto da Alfonso Signorini in cui ha parlato anche di Giorgia Meloni e di Alice Wine. Tra le protagoniste del nuovo numero di Key Magazine c'è anche Beatrice Luzzi. L'attrice e autrice TV, 53 anni, è una delle opinioniste del Grande Fratello 2024-2025, insieme a Cesara Buonamici. Dopo aver spopolato partecipando alla scorsa edizione del reality, adesso Beatrice si è messa in gioco in un nuovo ruolo. Nella recente intervista rilasciata al magazine diretto da Alfonso Signorini, Luzzi ha parlato anche del suo rapporto con il conduttore del GF, Signorini stesso, per l'appunto, e di femminismo. Cosa ha detto? Le parole di Beatrice su Signorini. Tra le varie domande, Beatrice ha risposto anche a una sul suo rapporto con Alfonso Signorini, che spesso lo scorso a non l'aveva protetta. Mi tratta male, ride, NDR a pomeriggio 5, facendo un confronto tra me e Cesara, ha descritto solo i miei difetti. Ha detto che sono spigolosa e poco accogliente. Avrò pure qualche pregio. E poi non mi ritengo né spigolosa né poco accogliente. So tenere il punto, tenere la testa alta e non far passare ingiustizie, ma questa è un'altra cosa. Il nostro amore platonico? Continuo a sperarci. Il femminismo, le parole su Meloni, Schlein e Maria Rosaria Boccia. Poi Beatrice ha parlato dell'idea che ha del femminismo. Io sono femminilista, ha detto l'opinionista del GF, che è un concetto diverso, trasversale. Ci sono molti uomini femminilisti, e questa visione parte dall'assunto per cui le donne non devono andare al potere perché sono più brave, ma perché sono il 50% della popolazione e devono essere rappresentate proporzionalmente, quindi più di adesso. Vado oltre le quote rose. Nel femminismo c'è rivendicazione, nel femminilismo c'è riconoscimento. Quindi le parole sul premier e su Ellie Schlein, sono contenta delle donne al potere, anche se i compromessi si fanno sia che ci sia un uomo sia che ci sia una donna. Ma le donne hanno un attaccamento alla terra e alla natura che le porta a una visione di medio-lungo termine più affidabile, più ampia. Maria Rosaria Boccia? In questa vicenda la trovo un pessimo esempio di donna, ci porta indietro di 100 anni. Ti è piaciuto il video? Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.